il gancio è il gancio sì il gancio sembra interessante per la lista sembra molto bello però credo sia sempre una cosa molto pixelosa poi per scherzi a parte questo coccodrillo giallo penso sia si basa molto sul fatto che questo sarà una specie di rampino per superare le varie sezioni si spara delle super bombe vabbè però qua la copertina è un po ingannevole devo dire molto ingannevole si va a benessere pixel ma non pixel a questo punto come salta con l1 se ti passerebbe sembra pure simpatica per carità non dico ciò però prende i panini e le bevite in breve mangiamo dobbiamo salvare i cicchi il gancio non è l'unica cosa che si allunga e coccodrillo mio i tasti sono complicati in un modo assurdo cioè saltare con l1 usare il gancio con r1 la musica è bella infatti è un buon botte utente questo devo dire è simpatico però pensavo che era non proprio così pixel troppo pixel o fiolo e la papa di figlio ha fatto questo ecco il contraccettino di usare incredibile quali sono i film totali mi manca uno è manca uno solo viola perché zombie come un idiota su te stesso non lo sai sale il gancio di tuo padre forse è troppo pericoloso deve imparare abbiamo preso tutti ma questo era il tutorial quindi bene con i gruppi di una sport di una parte perché è che ogni capito come se lui gira i paesi in ogni livello che l'amante con i figli e lascia poi si appende ovunque con il gancho si 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 ci ci sono di farlo ucciso da io e te voi la faccia di gue stai bastardo e altamente per quando sei sana proprio questo non si andrà oltre perché è troppo complicato da muovere proprio scomodo io dove siete non c'è modo di capire dove sono i nostri figli pesce ci uccide e il tuo si è proprio il corrido ci sono abbia fatto qui troppo o no aiuto chi è poi mangia pure queste queste altre cose molto piace variare l'alimentazione il gancio un pezzo di video fiolo oh ma quello è l'altro figlio che ci mancava fiolo oh abbiamo completato il livello ma ce ne mancano quattro da più da fare questa nostra femmina coccodrilla che vive qua fioli dove siete tutti i miei figli due sono morti oh non so io stai ingruppando con una guarda tale figlio sono fiero questo dobbiamo andare a farli smettere sennò potevo cercare un'ipotica nel gancio 2 eccovi qua dai andate a mucchiarvi in privato io lo vedi qua ho completato anche questo oddio i pesci hanno fatto in mano i nostri figli insomma abbiamo schivato con la vita oh no no siamo definitivamente morti uccisi da quella schifezza però abbiamo ottenuto un sacco di premi perché abbiamo completato proprio il gioco in modo incredibile va bene dai si si va bene comunque mi aveva un po' deluso e questo si vede di figli che volano vedi mi aveva un po' deluso devo dire la verità però è stato simpatico perché l'abbiamo presa a ridere però di base la copertina ingannata un po' guardate come è dettagliato questo padre coccodrillo infatti va bene va bene va bene Grazie a tutti.